Un altro supporto dell'estetica mare in mano e ci puoi ripartare nell'iniziativa mare in mano e spettacolo? Ma io dovrei parlare, stasera ragazzi venite perché io ci vedo all'iniziativa per dare possibilità ai giovani anche di avvicinarsi al teatro, alla musica, io non so nemmeno cosa si possa rappresentare, però se avete voglia stasera c'è Maremmas, i Maremmas possano venire a Maremmas, che spettacolo, che è molto meglio di Madonna, che si rende la mia vita. Che è successo stasera, è un film storico, c'è anche lui, che lo faccio io, ciao a tutti, ciao.